E' assolutamente incredibile, Electronic Artsle durante il suo play live ci ha mostrato non solo i titoli, quelli più famosi della sua casa di distribuzione, o no ragazzi, oltre al solito FIFA, oltre al solito Madden, oltre ai soliti videogiochi, beh, ritorna a presentarsi a noi un brand che, ragazzi, era sparito da davvero tanto tempo, stiamo parlando di Squadrons, e se siete stati attenti allora vi sarete accorti che il brand Star Wars ormai è completamente passato in mano di Electronic Arts, che praticamente lo adopera per davvero tantissimi titoli, alcuni che sono usciti bene, alcuni invece che sono usciti non tanto bene, e ragazzi, prima della fine di questa current gen, beh, Electronic Arts ha ancora un titolo da darci, ma ancora un titolo da regalarci, che appunto si chiama Star Wars Squadrons. E quindi, eccoci qua, amici curiosi di Top of Gaming, che andiamo a scoprire se questo titolo merita, oppure no, di essere preordinato, perché la data d'uscita, ma soprattutto le features di questo titolo, sono davvero molto interessanti. Come sempre, ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, e iscrivetevi, aiuterebbe davvero tantissimo il canale a crescere ogni giorno, sempre di più. Grazie mille a tutti. Come un fulmine a ciel sereno, Electronic Arts ci annuncia Star Wars Squadron, un gioco realizzato per vivere un'esperienza all'interno dei veicoli più amati in assoluto del mondo di Star Wars. Ebbene sì, ragazzi, in questo titolo entreremo in fantastiche navicelle spaziali, tra le più famose, tra le più iconiche, tra cui vi cito il Caccia alla X, oppure il Fighter, oppure il Millennium Falcon, ma soprattutto tanti altri veicoli. Questo titolo, detto in parole povere, quindi ci porta nello spazio, ci porta ad avere un'esperienza single player e multiplayer davvero molto intensa, con una battaglia stellare davvero molto, molto ben riuscita, sia dal punto di vista grafico, sia dal punto di vista di come Electronic Arts ce l'ha presentata. Perché, udite, udite, in questo videogioco sarà fruibile la realtà virtuale, che ovviamente andrà a braccetto con PlayStation 4 e PC, avrà il supporto crossplay e potrà essere utilizzati con Oculus Rift oppure HTC Valve. Insomma, iniziamo a mettere insieme tutti questi elementi, iniziamo a vedere la resa grafica, iniziamo anche a capire che questa modalità, ragazzi, non ha nulla a che fare su quello che abbiamo visto su Star Wars Battlefront 2, dove effettivamente c'erano delle missioni dal punto di vista multiplayer che appunto ci portavano a guidare i veicoli spaziali, o no, è completamente qualcosa di diverso, come stiamo per andare a scoprire. Ebbene sì, Star Wars Squadron presenterà vincenti combattimenti, multigiocatore 5 contro 5, e già la cosa è molto diversa rispetto a Star Wars Battlefront 2. Le battaglie saranno monumentali e avranno anche delle ambientazioni che abbiamo visto durante i film. Inoltre, avremo la possibilità, ovviamente, di poterci schierare dalla parte dell'Impero Galattico oppure dalla parte della Nuova Repubblica. Questo ovviamente comporta diversi tipi di mezzi, diversi tipi di abilità, ma soprattutto diversi modi di approcciarsi a quella missione. I giocatori quindi si impegneranno in queste fantastiche lotte interstellari, in queste fantastiche schermaglie 5 contro 5, dove l'obiettivo da demolire, e cioè la nave avversaria ammiraglia, beh, è sempre bella grande e realizzata con cure maniacali, ma soprattutto deve essere attaccata con diversi tipi di mezzi. Ed è qui, ragazzi, che arriva una cosa davvero molto importante. Nel 5 vs 5, beh, voi potete iniziare a scegliere il vostro caccia preferito, ma state ben attenti, ogni caccia ha le sue abilità. E Dulcis in fondo, beh, più le vostre abilità, più le vostre skill, più la vostra esperienza va a salire, più le abilità, gli skill che potete equipaggiare nel vostro caccia, beh, saranno differenti. Non si tratta essenzialmente di sconfiggere quanti più avversari possibili, si tratta essenzialmente di portare a termine i propri incarichi, come ad esempio i caccia hanno sicuramente l'obiettivo di proteggere i bombardieri, che sono dotati di armi molto più potenti, ma per quanto riguarda velocità e maneggevolezza, beh, non sono esattamente alla pare dei primi. I luoghi poi dove andremo a combattere, beh, sono dei più belli che siano mai stati realizzati, molto più grandi, molto più vari, molto anche più belli dal punto di vista grafico di Star Wars Battlefront 2. Attraverseremo dei luoghi mai visti prima, come ad esempio dei luoghi molto noti. Avremo il Gigante Gassoso di Yavin Prime, oppure la Nune in Frantumi di Galitan. Quindi il titolo in questione, beh, vuole sicuramente abbracciare qualcosa che abbiamo visto nei film e abbiamo apprezzato dell'universo Star Wars. Vuole sì vedere cosa è stato fatto in Star Wars Battlefront 2, ma vuole migliorarlo, e allo stesso tempo vuole anche provare qualcosa di nuovo, come stiamo per scoprire. Perché sì ragazzi, secondo me la bomba più grande in assoluto di questo videogioco è essenzialmente la possibilità di fruire di questo titolo attraverso Virtual Reality. Negli ultimi anni la Virtual Reality, tra altri e bassi, beh, è riuscita a far venire fuori alcuni bei titoli. Ce ne sono davvero tanti, e diciamo che Electronic Arts fino a questo preciso momento, beh, non ci aveva provato seriamente. Ma ecco che finalmente le cose cambiano completamente. Prima cosa importante da sapere, questo titolo è crossplay, per cui che voi giochiate su Xbox, che voi giochiate su PlayStation 4, oppure su PC, beh, potrete scontrarvi. Secondo punto importante, il titolo uscirà tramite Origin, Steam e Epic, ed è una cosa davvero molto molto bella, perché ovviamente il bacino d'utenza va ad allargarsi. Terza cosa importante, il titolo non verrà supportato solamente da PlayStation VR su PlayStation 4, ma verrà anche supportato su HTC Valve e Oculus Rift. Ovviamente Microsoft non ha a disposizione una periferica di realtà virtuale, ma diciamo che grazie al buon bacino d'utenza della Virtual Reality su PC, beh, in qualche modo, Electronic Arts si salva. Ah, ragazzi, considerate sempre che è supportato per la Virtual Reality, questo non vuol dire che è only Virtual Reality, per cui potete giocarlo tranquillamente con mouse e tastiera e joystick. Ci siamo concentrati sul multiplayer, ma ragazzi, scusatemi, forse non ve l'ho detto, ma questo titolo sarà anche single player. Ebbene sì, Electronic Arts sembra aver imparato gli orrori del passato, e Star Wars Squadron presenterà anche una storia per singolo giocatore, che ovviamente darà vita a diversi eventi a seguito della battaglia di Endor, quando appunto l'Alleanza Ribelle ha distrutto con successo la Morte Nera 2, e quindi attraverso la storia i giocatori impareranno cosa significa essere un pilota, e quindi inizieranno a prepararlo per, appunto, le partite multiplayer. Ed essenzialmente questo, ragazzi, il single player è una storia, non sappiamo quanto sarà lunga, molto probabilmente non sarà lunga più di 6-7 ore, e dovrebbe, ragazzi, non solo raccontarvi qualcosa di inedito, ma allo stesso tempo anche prepararvi in maniera più che adeguata a tutti i comandi, e a soprattutto tutte le modalità che il titolo ci offrirà, appunto, nel multiplayer. Perché sì, ragazzi, Electronic Arts sembra davvero aver imparato dai suoi orrori passati. Come vi ho già detto, c'è la campagna single player, c'è la modalità multiplayer, ma vi devo dire qualcosa in più, come ad esempio c'è il supporto crossplay, ma questo già lo sapevate. Quello che non sapete è che il titolo sarà disponibile sia su Electronic Arts Access, sia su Origin Access Basic, ok? Quindi, amici, voi potete tranquillamente giocare completamente tutto il titolo dal day one. Altra cosa importante, se vorrete comprare questo videogioco, beh, non dovrete spendere 60 euro, ma bensì solo 40. E anche qui, amici, beh, tanto di cappello e Electronic Arts. Un'altra cosa? Non ci saranno le microtransazioni. E questo, ragazzi, mi rende davvero molto felice. Ma, 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 ci sono molti, ma, da considerare. Avrei potuto concludere il video in questione di Star Wars Squadron, amici di Top of Gaming, tranquillamente elencandovi solamente le parti, appunto, belle del titolo. Ma, dato che ci troviamo in un video di prima di preordinare, è giusto anche farci alcune domande. E sicuramente Star Wars Squadron sei un gioco, è il sogno di ogni nerd che sogna di mettersi alla guida di un caccia alla X, oppure di un fighter, di diventare un vero e proprio grande pilota di Star Wars, e magari vivere alcune incredibili avventure. E fin qua, tanto di cappello Electronic Arts, brava! Hai fatto venire fuori un titolo, appunto, in current gen, con davvero tante buone qualità. Appunto il crossplay, appunto la virtual reality, e appunto il fatto di non mettere microtransazioni. Ma adesso la community ha delle domande. Essenzialmente sono queste. Una volta uscito questo videogioco, come sarà supportato? Perché, vedi, Electronic Arts, non basta semplicemente fare un videogioco senza microtransazioni per renderlo buono. Deve essere anche adeguatamente supportato. Dette in parole povere, amici, dopo il 2 ottobre, quali contenuti aggiuntivi verranno messi in questo titolo? Ci saranno season pass o tutti i contenuti dopo saranno gratuiti? Ma, dulcis in fundo, dato che la next gen si sta avvicinando, il titolo passerà automaticamente nelle console come PlayStation 5, Xbox Series X, oppure dovremmo ricomprarlo, come la stessa Electronic Arts, ragazzi, fa intendere da davvero tanto tempo. Insomma, sì, ci sono buoni punti a favore, ma allo stesso tempo il titolo esce proprio, proprio alla fine del ciclo di vita di questa gen. Quindi io mi chiedo e mi domando, ne vale la pena o non ne vale la pena? Electronic Arts, cosa vuoi fare su questo titolo? Quale sarà il suo supporto a medio-lungo termine? Insomma, ragazzi, queste potrebbero essere risposte che ovviamente troveranno una loro risposta nel giro delle prossime settimane, ma se dovete per forza preordinarlo adesso per, appunto, ottobre, beh, tenete in mente questi punti, perché saranno davvero molto importanti, appunto, fra circa sei mesi, quando arriverà la nuova generazione di console. Insomma, amici, ci sono ottimi pro per questo videogioco, ma ci sono anche qualche piccolo contro che ovviamente vanno a pesare sulla nostra scelta finale. E voi cosa ne pensate? L'avete già preacquistato? Siete fiduciosi su Electronic Arts? Beh, fatemelo sapere nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo megavideo. Ciao!